Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video del lunedì, siamo alla parte finale dell'anno, siamo a dicembre, i mercati stanno sonnecchiando ma l'analisi ciclica indica ancora debolezza per quanto riguarda i mercati delle criptovalute, almeno per qualche altro giorno. C'è anche da dire che il mercato stenta a scendere sotto i livelli di supporto che ha fissato la scorsa settimana intorno più o meno ai 7.000 dollari, prova in sostanza ragazzi a scendere già da un po' di tempo però poi rimbalza ancora. Quali sono i livelli che dobbiamo monitorare questa settimana? Qual è la strategia migliore da seguire da qui a fine anno anche per avere un po' più di tranquillità ragazzi, anche per rilassarci poi sotto le feste di Natale con i familiari e quant'altro quindi magari facendo un po' meno trading. Ma badate bere che i mercati spesso e volentieri se ne fregano altamente di questi momenti, anzi ragazzi la volatilità a volte esplode proprio durante giornate dove molti retail non sono magari davanti al grafico perché sono in festività. Quindi facciamo una bella cosa oggi, andiamo a guardare quali sono i livelli da monitorale un po' più ampi rispetto alle solite analisi che facciamo durante la settimana in modo ecco da avere dei punti di riferimento da poter utilizzare da qui che comunque siamo a metà mese anche insomma per il dopo Natale. Poi lo rivedremo comunque ragazzi la programmazione del canale non cambierà sotto le feste quindi ci saranno sempre i video di aggiornamento. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, in questa settimana esce il Q&A perché mi avete fatto una serie di domande negli scorsi video fantastici, scrivetemi ancora altre domande nei commenti di questo video ragazzi se riesco a fare in tempo li metterò dentro al Q&A di mercoledì altrimenti nada per questa volta ma andranno per il prossimo. Quindi fatemi sapere quello che state pensando e soprattutto quale strategia state applicando ai mercati in questa fase di titubanza, di bassa volatilità. Bitcoin, Ethereum, Binance, spostiamoci sul grafico. Allora metto gli occhiali come sempre grafico di Bitcoin per quanto riguarda la scorsa settimana dove ce l'abbiamo lasciati. Allora intanto vediamo una cosa incredibile l'RSA ai ragazzi completamente piatto. È vero che ha fatto qui un minimo che sono un RSA a 40 giorni molto lungo serve per monitorare dei cicli a 40 giorni ragazzi quindi lo utilizzo sì e no. Mi piace questa figura di testa a spalle quindi significa che in teoria dovrebbe ancora avere magari un minimo da poter fare quindi ancora scendere. Indicherebbe in sostanza quello che abbiamo visto nell'analisi ciclica della scorsa settimana cioè questa fase che vi rimosto vediamo se riesco a ingrandirla che ancora non è completata. Ecco questo ragazzi ancora sta per essere completata dovrebbe esserlo tra poco tempo. Da un punto di vista di analisi ciclica e poi vedremo supporti e resistenze da monitorare come vi ho promesso quello che mi interessa quello che mi garba vedere è questo ragazzi è una cosa di cui ho parlato ieri in un video domenicale che ho fatto un'analisi multiciclica per la Trading On Academy dove ho indicato in sostanza che questo ciclo sembrerebbe un ciclo ternario cioè un ciclo fatto vedete a questa forma. Ok è che probabilmente andrà a fare una nuova gamba ribassista quindi un nuovo minimo perché questo ciclo ternario perché insomma la forma sembra essere questa. Questo minimo in realtà ragazzi dovrebbe indicarci che questo rimbalzino è un rimbalzino del gatto morto. Domenica ieri nel video dell'Academy abbiamo parlato di questo ovviamente ragazzi sono supposizioni quando entriamo nello specifico in giorni molto piccoli quindi insomma previsioni da qui a 1-2 giorni sapete che sono estremamente variabili quindi molto variegate. Quindi in sostanza era una mia idea perché in Academy ho indicato che in questi giorni prediligo in sostanza per analisi per trading di natura intraday delle operazioni di natura short intraday. Quindi chiaramente non al di sopra dei 7.400 quindi il primo livello che mi fa cambiare completamente nel brevissimo periodo view è questo qui ragazzi e 7.400. 7.400 mi sposta ad abbandonare questa view ribassista nei prossimi giorni al momento resto ribassista poi ragazzi il problema è che target di prezzo avrà questo ribasso con la volatilità di questi giorni può essere anche che non si vada sotto il minimo del 25 di novembre. Tecnicamente il mercato dovrebbe scendere sotto questo minimo se l'analisi ciclica verrà rispettata per quella che è la sua teoria è anche vero che nei momenti di bassa volatilità i cicli si disperdono come un po' tutti gli indicatori di analisi tecnica e quindi quello che succede è che il mercato sale e scende intorno a un prezzo non fa niente solo rumore tutti i segnali sono falsi non serve a niente ma non c'è neanche da fare trading perché il mercato non si muove quindi non avremmo neanche modo di fare profitto perciò in sostanza bassa volatilità ragazzi prendiamo tutto con le pinze da un punto di vista teorico e qui ripeto quello che ho già detto la scorsa settimana se la ciclica non mente da qui c'è da fare ancora una gamba ribassista. La teoria ragazzi proprio classica indicherebbe questo movimento in questo modo questo è un ciclo ternario ma il terzo ciclo sarebbe debolissimo e dovrebbe andare a rompere questo livello di minimo probabilmente poggiandosi poi su questo primo supporto che vi avevo indicato a 6400. questo se siamo in una struttura ciclica da manuale ragazzi da manuale significa proprio la teoria da libro dovrebbe funzionare in questo modo quali sarebbero i segnali importanti da guardare intanto la rottura dei 7000 dollari perché la rottura dei 7000 dollari sappiamo bene come i mercati delle criptovalute guardino i livelli pieni quindi 7000 8000 6500 ragazzi in generale come livelli di supporto e resistenza di natura emotiva perciò se il mercato ci va giù al di sotto di questo 7000 in close magari quantomeno un 4 ore 6 ore diciamo in close è probabile che il mercato provi ad andare al testing di questo minimo a 6600 quindi se lo fa stiamo attenti altro fattore da monitorare la trendline ragazzi come vedete questi problemi seri che accadono diciamo sui mercati queste bitfinex che fa molti spike ultimamente peggiorato secondo me da un punto di vista di stabilità ci indica comunque una trendline ribassista ragazzi anche nel daily quindi fin tanto che questa trendline regge abbiamo sicuramente questo questo canale in sostanza che sta diciamo sta seguendo il mercato vedete un canale ribassista porterebbe qui a questo minimo intorno in sostanza ai 6600 e 6700 una specie di doppio minimo qual è la giornata delle scadenze cicliche le giornate delle scadenze cicliche a questo punto ragazzi dovrebbe essere intorno alla giornata del 18 quindi fra un paio di giorni c'è da dire però che se il mercato non accelera ma in continua questa bassa volatilità il tempo si allarga ecco i ragazzi mi dovete credere sulla parola perché non riesco a spiegare questa cosa a livello ciclico e quindi potremmo in sostanza andare a un po più in là quindi verso la fine del mese di dicembre sotto natale quindi spostarlo ecco più o meno a 60 barre totali il primo è stato di 33 ragazzi quindi nulla vieta che magari ne fa altri 33 e siamo a 66 ecco quindi insomma dipende dalla velocità del mercato se il mercato inizia a muoversi in maniera veloce allora ci dà delle indicazioni se il mercato continua questa sua fase di dolce dormire ragazzi i tempi si allungano ed è così ma d'altronde sarebbe che buono sotto natale che facesse una volatilità bassa insomma per lasciarci tutti in pace quali sono i livelli vi avevo promesso allora livello 7.000 da monitorare siamo vicinissimi quindi attenzione perché rottura di livello 7.000 conferma questa più che vi ho detto immediatamente il mercato andrà a cercare poi a quel punto la rottura del minimo a 6.600 primo supporto 6.400 l'altro purtroppo è molto lontano e sta tra i 5.500 di cui ho parlato in una mia vecchia analisi cioè più o meno qui e i 5.600 e i 5.300 questa fascia ragazzi ma sarebbe un disastro insomma è inutile girarci intorno sarebbe una cosa molto brutta molto brusca anche secondo me il mercato con questa volatilità sicuramente non ha voglia di scendere fin lì speriamo non lo faccia siamo tutti rialzisti insomma sulle cripto quantomeno mentalmente anche se in questo momento siamo flat però l'idea è sempre quella rialzista invece al rialzo quali sono i livelli da monitorare che sono importanti per capire se questa fase di riflessione sta terminando quali sono i livelli i livelli sono i la rottura di questo canale che è questo canale ribassista che sta tenendo il mercato al di sotto vedete la rottura di questo canale prima i 7.400 o 7.500 insomma ragazzi siamo lì è il primo livello e poi la resistenza madre nel breve sono gli 8.000 dollari va bene allora questi sono livelli chiave ragazzi fin intanto che il mercato non rompe prima questa trend line poi il prezzo di equilibrio 7.500 e poi la resistenza 8.000 non cambia trend e nel breve rimane ribassista ok? detto fatto passiamo ad ethereum velocemente così concludiamo anche la view della regina delle cripto avevo indicato come alert buy se vi ricordate nella mia precedente analisi 138 115 il mercato ancora non si è avvicinato a questo livello quindi in sostanza non ha fatto ancora un buon prezzo per l'acquisto possiamo anche vedere sto cercando di spostarvi ecco le mie linee temporali così siamo più vediamo di più il grafico per ingrandirlo allora sto cercando di farvi vedere come anche lo stesso la stessa struttura dormiente chiamiamola così ce l'ha anche ethereum intanto facciamo una cosa che accelliamo questi dati che non servono più erano quelli delle scorse settimane che avevamo indicato allora anche qui ethereum continua questa fase questo trend ribassista e dove va a finire a rompere il minimo del 25 di novembre e appoggiarsi sul famoso supporto ciclico che è effettivamente questo supporto ciclico è intorno ad aria 128 allora se lo fa ragazzi entra nell'alert buy aria allora lì potremmo poi monitorare per esempio delle inversioni di trend ci sarà anche qualche video magari dedicato se ethereum arriva qui dedichiamo qualche video a ethereum per vedere quando inverte se come e quando altrimenti il problema è identico a bitcoin ancora una volta c'è questa trend line un canale tendenzialmente ribassista ma sembra con poca forza fermo restando ragazzi che poi vi fa due candele così e ci va a fare il minimo boom 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 magari ok quindi non si può andare contro trend ragazzi qui non c'è ancora nessun buy sul mercato dove arriva il buy su ethereum primo livello da superare 155 che lo vedete qui il livello importantissimo è 160 quindi se ragioniamo come bitcoin prima dobbiamo avere la rottura della trend line poi il superamento di 150 155 poi di 160 sono vicini quindi facciamo direttamente 160 solo allora avremo un'inversione di trend fino ad allora niente log purtroppo su ethereum per chi come me ragazzi segue una logica di position sui mercati logici statistici dettati da delle regole e non al caso alla fortuna che poi non cambia assolutamente niente allora andiamo poi infine a vedere invece binance stesso discorso uguale mercati correlatissimi in questa fase più debole binance rispetto alle altre competitors come altcoin intanto vediamo anche qui allora vediamo che binance è già vicino intanto alla buy area perché più o meno siamo intorno a 14 12 dollari in sostanza ragazzi 14 dollari in questo momento 14 2 non è ancora entrato proprio nel pieno della buy area però insomma si si sta avvicinando quanto era il minimo da rompere il minimo era 13 88 binance dovrebbe andare a anticipare come sempre anche qui vi faccio vedere la struttura ciclica assolutamente ternaria molto evidente dovrebbe fare questo quando vedremo insomma ragazzi binance un po' di tempo fa anticipava i mercati potrebbe continuare questa fase anticipatoria perché no vedremo insomma se lo farà ancora dove ci sono inversioni di trend su binance ve l'ho indicato inutili che vi ripeto il discorso è identico uguale a quello di bitcoin e ethereum 16.5 l'inversione di trend per quanto riguarda il breve periodo poi addirittura al medio periodo bisogna salire sopra 21 quindi ce ne vuole ancora non ho comprato ancora binance come sapete perché è la mia coin da acquistare bene vi ho detto tutto per quanto riguarda oggi e per quanto riguarda questa settimana tutti i livelli da monitorare sto facendo una serie di analisi nuove per gestire anche queste fasi ma ancora sono in alto mare quindi non ve le presento sul canale come sempre sto analizzando anche delle altcoin che sono parecchio interessanti in questo momento ne parleremo nei prossimi video quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto io vi ringrazio come sempre lasciatevi un mi piace e noi ci rivediamo in settimana ciao a tutti ciao a tutti